Salve a tutti, siamo qua alluminone le notizie. La conduttrice di pomeriggio 5, che domenica l'abbia, intervistata da Luciani su Rai24, ha messo di percepire, secondo lei, una somma modestissima. Guadagno pochissimo, esattamente circa 10 volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno. Più tutte le tasse che pago regolarmente e di cui vado. Sono orgogliosissima. Insomma, fate un po' i conti. Ogni tanto in Italia mi fa i controlli, come a tutti, e trovano sempre tutto in ordine. Si complimentano per la mia affidabilità a concluso. Questa è la notizia, insomma, che c'è stato San Barbaro D'Urso che si lamenta perché guadagna 42 mila euro al mese, tipo quasi. Cioè, quando c'è sta gente che purtroppo non arriva, niente. Cioè, commentate voi voi. Che questo è il peggio d'Adriana di Previ. Mamma mia, da vergognassi e romio. E questo non si commenta, insomma. Arrivederci e alla prossima.